Ciao, sono Barbara Tosti, artista, coach e ricercatrice. Attraverso il percorso Cicatrice Baci che ho creato, puoi permettere alla tua cicatrice di essere ascoltata e raccontata. Ti accompagno nel processo di interpretazione dei messaggi non verbali che essa trasmette. In un dialogo tra teme, la mia responsabilità artistica agisce come un regista, che ti aiuta a trovare la modalità di espressione più autentica, portandoti a scoprire e sperimentare la tua forza nel processo di guarigione. Da me, ma soprattutto da te stesso, ottieni un riconoscimento, poiché osservi il messaggio della cicatrice, lo onori, lo integri, liberandoti di tutto ciò che non è più necessario. Con Cicatrice Baci hai l'opportunità di un cambio di prospettiva sulla cicatrice. Attraverso il mio sguardo e la pratica posso aiutarti a fare uno shift a te utile. Lasciamo la prospettiva terapeutica ed utilizziamo uno sguardo artistico. Da un segno di dolore e trauma diventa un'opportunità di espressione creativa nel mondo dell'arte. Sarei tu a performarla, sarei tu il protagonista.